C'è un motivo particolare perché questa squadra non riesce in questo periodo ad andare con facilità in rete? Un motivo particolare in questo momento mi viene in mente, probabilmente dobbiamo essere bravi noi spesso a rischiare magari giocate che proprio perché i gol non stanno arrivando dobbiamo cercare di rischiare magari di più la giocata. Ora ci sono queste due partite casalinghe a distanza di 10 giorni, c'è l'occasione contro Cremonese e Carpi di guadagnare punti importanti per la classifica per riavvicinare la zona playoff che comunque ha due passi? Sì, sono due scontri retti a tutti gli effetti, se dovessimo far bene poi anche magari questo punto che abbiamo fatto a Chiavari dove ovviamente non abbiamo fatto una grande partita risulterà poi importante, quindi queste due partite sono partite fondamentali per agganciare i playoff. Tu sei riduci anche da un problema al setto nasale, come stai? E poi ti chiedo il rendimento, come giudichi il tuo rendimento in queste ultime gare? Ma il setto nasale è stata, alla fine è stata una forte botta, quindi mi ha limitato magari nella partita di Frosinone dove la botta era troppo fresca, quindi non potevo giocare, per il resto anche con la mascherina non ho avuto problemi, ho giocato. Il rendimento generale, sicuramente lavoro in settimana per migliorare quelle che sono le mie potenzialità, poi sicuramente so che posso fare molto di più. Forse probabilmente da te i tifosi, anche il mister, si attendevano qualcosa in più dopo i 25 gol segnati lo scorso anno con la San Benedettese stai incontrando qualche problema a trovare la via del gol? Probabilmente è chiaro che quando ti presenti con un biglietto a visita così ci si aspettano i gol, nelle mie caratteristiche per il gioco che faccio non sono proprio un attaccante centrale, voglio però tornare a rendermi utile anche in fase realizzativa.